Rimarrà aperto fino all'8 dicembre lo spazio Sardegna posizionato all'interno della mostra a mercato artigiano in fiera ospitato a Rom Milano Fiera, una superficie espositiva di 1800 metri quadri, 900 di quali istituzionali, in cui sono ospitate 109 aziende sarde in rappresentanza del settore dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare, che avranno l'opportunità di presentare i propri prodotti in un palcoscenico internazionale dove sono rappresentati oltre 100 paesi con 3000 stand. La spazio Sardegna offre alle migliaia di visitatori anche l'opportunità di calarsi nella cultura e nella tradizione della Sardegna, come accaduto ieri con una giornata dedicata al patrimonio etnico musicale dell'isola. Siamo qui alla fiera di Milano degli artigiani per stare a fianco ai nostri produttori e portare in Italia e nel mondo la cultura, la tradizione e il saper fare della nostra isola. Finalmente quest'anno diamo un'immagine omogenea, abbiamo brandizzato per intero tutti gli stand e ci proponiamo anche con un messaggio forte sull'ecosostenibilità dei nostri stand, che sono interamente realizzati in materiali riciclabili. Mettiamo in mostra una tradizione millenaria di cultura, tradizioni di saper fare manuale che è orgoglio e vanto di tutta la Sardegna. Una vetrina importante perché mettendo in mostra quel che va oltre la bellezza paesaggistica, i beni ambientali, i valori che tutti conoscono nel mondo, facciamo vedere anche una Sardegna che sa fare, produrre e lo sa fare in maniera unica al mondo. Oggi esponono 100 paesi al mondo che sono qui in questa fiera e la Sardegna è fra i 3.000 espositori. L'artigianato è un valore aggiunto, il commercio è un valore aggiunto, quindi noi dobbiamo puntare su questi settori e valorizzarli. Il ruolo della politica è questo e noi lo stiamo facendo e iniziamo da qui a cambiare e i cambiamenti si vedranno anche nelle altre fiere.